Ciao a tutti ragazzi, io sono SimonTV No, mi ha rubato la kill, ma tu Beh, ragazzi, iniziamo subito così Con il delirio Eh, ecco Oh ma, stiamo calmi Mi fate fare la intro Porca vacca Dai, giustamente io quando devo morire subito, chi sono il termite Popito si fa sta facendo un viaggio E quando io registro una classificata siamo sempre in sta mappa Mi sembra giustissimo Bravo, ma tu Ma perché c'è Ibana? Ibana Ibana Dov'è Ibana? Dov'è Ibana? Ibana è a forza Bravi Ok, ho spaccato una cosa Mi sa che vengo dal garage 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 La goccia Sì, vedi che hanno spaccato Ah no, non ho spaccato No, niente, son cieco Peccato a che Ibana è scemo Ma che il velo è bano 130 Perché non spacca di su? Il velo è bano Metti i fuggi, metti i fuggi, metti i fuggi Bravo, bravo Ragazzi mi avete detto nello scorso episodio che volevate Oh, ma niente sto facendo Oh Ah, si Oh Bravo Che volevate? L'ha rotto tutto il livello diamante Io Occhio Io dico ok Però è quasi finita Questa cosa l'ha visto Bravo E quindi non so se mettere Rotto il livello diamante Hashtag 1 Se il primo episodio 2 Comunque penso di mettere l'1 Comunque sto che il primo episodio Adesso C'è la cacca per terra E iniziamo a vincere Beh, l'inizio Vero? Io vincere Quando rock, dai No, non riusciamo a trovare Ah, no, no, no Poi dopo quando c'è Non ci fa andare in ristardamenti barca Abbiamo fatto il server Sì Ok Comunque poi esco sempre le stesse mappe Ogni video che fai Anche la tua volta Eh, infatti 5-3 Con miei 12 kill Con l'ultimo con la pistoletta epica È vero Vai Io aspetto a mettere i bandit Perché magari hanno Twitch E me li bruciano Qualcuno è andato a chiedere sopra? Sì Sì, è andato il doc È andato il doc Fuck Basta Dov'è che è? È distrutto? Gigi ha sparato Io surri surriam surri Vai dal doc Vai dal doc Non mi sparare Vai dal doc Il doc Giustamente in giro Il doc D'altro Potere il mondo Ecco Ragazzi Tutti la comune Non la lasciavo Queste ragazzi No Ho filato parete Ma dio Lo so Se muore il doc Chi va dal garage Magari tengo lontanio Così Se il doc venisse Mi desse un po' di vita Sarei contento Sì appunto Anche a me Eh ma è a lasciare Ma è a mon culo È a mon culo Sì ma Occhio Caricatore Sì ma non uscire Troppo poca vita È 16 quarto No Sare il coso Di là È giusto Perché magari Ne ha matto tutti Adesso 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 No 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 Cosa che fai Cosa fai Mongolo Mongolo È un È un Dotto Che va in giro Sendo Che va in giro Ma perché Mongoplettico Del cavolo Che fa Dio fa O Parapletico Se i doc Che va in giro Ma io non lo so io ti riprovo prova a non morire comunque ho fatto un fail con bandit e voto mi piace così e lancio giunto occhio raga gemma e rabbi e cai io vieni vieni che non va mi serve non riesco a spaccare sono occhio lancia la granata non c'è la granata no che palle hanno barricato poi vai 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 o non va bella la chicco lì dove sono morto io lì si è apparso lì e sono morte qua con cavaltire c'ho troppi nato timo o ma chi rimane un nemico bravo si moto sono sul tetto occhio uno è sul tetto sopra di noi però hanno spaccato qua ha spaccato da me ora si attaccato a un pino ragazzi non posto un po di cacca sì, ma se spacci la porta dietro di te ne hai massi uno sì perché sto dando rampino fanno, fanno, fanno oh no 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 ok no no, 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 certo, certo solga da qua, mi solga le mie piccole tottine sono in posizione tutti da non nell'altro testo una qua oh non sto facendo niente bello sta partita dov'è? cos'è? dai, non c'è sempre solamente lui oh, non è blackbird dai oh, almeno una kill io ho fatto una kill una, non ho fatto ah, gli auguro due io ho fatto il giocatore 4-1 bravo, matto ah, non riesco a giocare chi è come è uscita avete preso ma ho detto 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 vabbè possiamo spaccare dall'altra parte c'è Yago c'è Yago c'è il mio drone c'è il mio drone no, è caduto il drone vabbè vabbè ecco Yago ah fuck è uscito è uscito è riuscito cosa vabbè 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 avete cinica hai visto bravo ma chi è qua qua il mio drone è da solo per terra forever alone e dovrebbe essere qua credo è proprio qua davanti oh no non vedo niente Dio Bono Popito mi copre le scale vai entra entra vabbè ho usato la squadra d'attacco è mamma mia ma mi ha amato il ketchup 10 kg io due vabbè 3 kg non fatti due vabbè io lo schifo perché pingo di schifo ma se vuoi si c'ho cimo fai un altro di video se vuoi e poi non devi metterli tutti finito magari domani poi il video ma no tanto arriva a 102 ore 4 io ero ore 4 ero pure tornato ora sono di nuovo platino 1 guardate non lo so ma che c'è l'effetto dai ci vuoi un anno per fare un platino si stas 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 Grazie.